La prima cosa che ti forzo, ed è l'unica cosa che ti forzerò oggi, è di tornare a Firelink Shrine Per tornare a Firelink Shrine, in realtà, c'è un piccolo segreto che ti dirò Il modo per tornare su è il modo che hai visto usare a me Perché quella porta lì, che io ho aperto con la chiave universale Tornando su dalla strada che ho fatto io, troverai un baule con la chiave che apre quella porta Quindi finalmente potrai usare quello shortcut e tornare indietro Ah, e io però non mi ricordo da dove sei venuto te, era qua a destra, vero? Da destra, esattamente, lì da destra Ok, qua ti forzo io, vedrai che c'è un piccolo camminatoio di legno da una parte all'altra Sì, quello che ho appena preso, dovrebbe essere questo Alla sinistra di quel camminatoio c'è una porta che si aprirà con la chiave che hai appena usato I petit lond Perfetto, io se vedi sto uscendo dove sei uscito tu Apri e scendi le scale, torni giù e sei a petit londo Sulla sinistra vedrai che c'è un altro torrione Sì, e posso salire E ci devi salire, no, che ci puoi, ci devi salire Posso tirare una leva e lo chiamo No, dicevo, quello che la mappa è fatta da degli architetti è vero Proprio degli architetti È allucinante, il modo in cui è interconnessa questa mappa è allucinante E tra le altre sono interconnessioni vere Cioè, questo ascensore non è un caricamento nascosto Se tu metti il volo e ci voli dentro Arrivi dove arrivo l'ascensore Non è una mappa caricata E guarda dove sbuchi Ma non ci credo È allucinante Questa mappa è allucinante E adesso All'inizio E adesso scoprirai la grande cosa Leggiti l'anima di Quelag Domanda per Bodhi Rocco è già stato al Duomo di Milano? Non è ancora stato al Duomo di Milano Abbiamo aperto Sans Fortress La scorsa live Infatti questa live si chiama La Fortezza di Sen Bellissima la citazione al Duomo di Milano Se oggi ci arriviamo mi ricorderò di spiegarla Io so solo una cosa riguardante il Duomo O no, una roba del genere Che un luogo di Dark Souls È ispirato a qualche cosa di italiano Qualche... non so se il Duomo C'è un luogo di Dark Souls Che è infatti quello che citava lui Una cattedrale Che non ci sei ancora stato Che è proprio la riproposizione in 3D Delle guglie del Duomo di Milano Ah, ok Vabbè Cioè ci manca veramente solo la Madonnina Ngop Ed è uguale È uguale al... Comunque È fatto apposta Anima della Farfalla della Luna Anima della mistica Farfalla della Luna Che svolazza nel giardino radicioscù Gli esseri speciali hanno anime speciali L'anima della Farfalla è una creazione di Seth il Senza Scaglie Si pronuncia Sith Sith il Senza Scaglie Sith il Senza Scaglie Era quel drago nato senza le scaglie appunto Che ha detto a Gwyn Qualer... ha tradito i suoi compagni Ha detto a Gwyn come uccidere i draghi Ha detto a Gwyn Ah, nell'intro Il segreto di draghi Nell'intro Devo riguardare dieci volte l'intro È quel drago pallido insanguinato Che schiaccia una scaglia con la zampa e ruggisce Un tempo figlia della strega Izalith E ora demone del caos Gli esseri speciali hanno anime speciale E quella di Kilag contiene tutti gli aspetti del caos Figlia della strega di Izalith Per chi era la strega di Izalith La strega di Izalith era quella strega che nella prima fiamma Ha trovato le stregonerie del fuoco Che non sono piromanzie Sono stregonerie del fuoco E ha bruciato gli arci alberi dove i draghi facevano i nicki E perché ora demone del caos? Eh, in qualche modo ad Izalith è successo qualcosa E il caos ha trasformato le persone in demoni Lo scoprirai, non lo puoi ancora sapere La guardiana del fuoco è assente Non può accendere al falò Perché ti manca un oggetto da leggere Globo dell'occhio nero Comunque, è globo dell'occhio nero Mistico, ho trovato addosso una guardiana Questa qua di sotto Invadi il mondo di chi ha ucciso una guardiana del fuoco E sconfiggilo per reclamare l'anima della guardiana L'occhio nero veglia costantemente sulla città degli dèi A Norlondo Nome famoso questo però Questo è famoso Questo l'ho sentito duemila volte E beh, a Norlondo è un nome molto fantastico Anche perché è stato memato all'infinito Mi ricordo la sua reazione Quando lo vide Tiede i suoi occhiali alla fidanzata Una roba del genere E gli dice Puliscimeli per favore Perché non credeva a quello che aveva visto Una roba del genere Ecco, smettila di guardare quello short Perché hai mancato il punto Ma è il spoiler più grosso di tutti Meno male che non te lo ricordi bene Quello è un altro punto di un'altra Blindland Di un altro gioco Allora sono stato bravissimo Però è uno spoiler gigante Quello è Dark Souls 3 Ti dico solo La guardiana quindi dove è finita? Hai trovato un cadavere e un globo Di chi ha ucciso la guardiana Qualcuno ha ucciso la guardiana Per forza Sì Ti ricordi chi stava seduto Proprio davanti alla guardiana? Sì Quello che abbiamo liberato E ci aveva dato la ricompensa E ti ha detto Che ti avrebbe dato Una ricompensa grandiosa In futuro Ecco la sua ricompensa Ti uccide la guardiana del fuoco E uccidendoti la guardiana del fuoco Ti spegni E fai un sciaglio No E infatti Se puoi notare Il mio fuoco è acceso E lui è misteriosamente Laura non c'è È andato via Gli ho fatto un culo a tarallo E adesso Beh La speranza è che adesso Tu ti possa vendicare Quando sarai Se arriverai ad Anor Londo Beh Quest'occhio Vigila sua Anor Londo E ti dovrai vendicare subito Adesso c'è un'ultima cosa da fare Esplora un pochino Firelink Non ti servirà a cercare tanto Aspetta però Noi avevamo risvegliato a metà 1 Quando abbiamo suonato la prima Suonando la seconda C'è qua dentro Eccolo Lo sapevo Che cazzo è stato la stessa cosa Il primordiale serpent RUN Ah Hello Hello È proprio tu che ruge le bellissime Eh sì ero io Eh sì Spoiler comunque Il cercatore di re Amico stretto di Lord Gwynn Oh grazie Vuoi conoscere questa verità? Assolutamente Sì Almeno il mio scopo vorrei sapere Questo è importante Sarò lieto di condividerla con te Prescelto non morto Il tuo destino è Succedere al grande Lord Gwynn Oddio Che potrebbe rinunciare il fuoco Casta away the dark And undo the curse of the undead A questo end Devi visitare Anor Londo E acquiare il Lord Vessel Dobbiamo diventare il Lord Ancestrale Verg No vabbè Ah questo Questa è una bella roba Bene Dobbiamo andare a Anor Londo E diventare l'Onda Ancestrale Ora Per Anor Londo È lunga Però adesso Andiamo alla fortezza di Sam E adesso stai per entrare Nella mappa Che ha dato origine Al mito di Sabah L'altro sense fortress in copse Sarò unico Ok E dici che è difficile Eh ma è difficile Ma non per i motivi che pensi tu Cioè non ti aiuto Cioè E non te lo voglio spoilerare Diciamo che il problema di sense fortress Sono solo le vicine Dai Dai Cambio build Ma non ci vuoi Quando ho fatto la mia prima build forza Ho formato questi due Circa 21 ore Cercando di droppare la loro arma Che è la seconda arma forza Di forza del gioco L'ho appena droppata Ecco E sono una build estrezza Comunque in effetti è un buon farm questo Se ti dà 500 Sì sì Vabbè qua 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 proprio il gioco cambia Mamma mia l'hai shottato C'è qualcosa di fastidioso Tipo l'avvelenamento No Non c'è nessuno status Ok Cosa ci può essere Se non vogliamo considerare la morte Vabbè Quello che ti ha droppato quell'arma Era quello lì da solo che proteggeva Cioè Proteggeva nulla Cavaliere nero Sono cavalieri e sono neri Ah È questo dici Eh Allora cosa cazzo c'è che Pezza e merda Allora Allora Qua ci siamo no? Bravo Fin qua ci siamo Fin qua ci siamo Fin qua ci siamo E la prima l'hai superata Ok Immaginavo Non poteva essere L'unica Chi è che spara lassù? Magie Chi è che lancia la folgora? Ah Ecco Per arrivare lì adesso ci romperà il cazzo Questo Devo capire Il tempismo Eh Minchia 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 Pezza e merda Muori Bravo Ok Eh dai Ma ci siamo eh Madonna Eh Dovevo stare attento Io per sicurezza Sto sempre fulbita Perché Bravo Questa è un'ottima Un ottimo modo di pensare Tutte ste trappole sono la merda eh Qua c'è una palla infatti Ma continuano a partire? Sì All'infinito Ma qua di sotto Porta nulla Non c'è Eccola No invece no Non si muore Eccomi Madonna Non a quanto salti Ma sopravvivi a due colpi di questa fantastica arma Eccolo il nostro amicone Bravissimo Bravissimo Cosa ci ha detto? Dice che non riesce a passare perché è troppo pesante con quell'armatura e quindi la palla non riesce a schivare Pg non must protect Ok quindi dobbiamo liberargli la strada Benissimo Vedo che hai capito il theme delle sue missioni Ossia Lui riesce a proseguire soltanto perché No E non dire mai più una cosa del genere Lui non riesce a progredire E sei tu nel tuo avanzare che lo fai progredire Lo aiutiamo Sì Allora quando noi mettiamo piede fuori Parte subito una palla Proviamo Correre 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 Ehi Sono salvo No Bravo Questo non era facile Poca merda Vai Non bodybloccarmi per l'amore del cielo Entriamo? No Ok No? Sicuro? E se mi mettessi qua? C'è la stanza col tesoro Possa Il tesoro Giusto? Ah era una stanza con solo questa Anello protezione acciaio Mi hai detto che troveremo un anello Un anello più forte del gioco Non è questo ma questo è un grandioso anello Vedi È tradotto È tradotto malissimo Riduce del 35% i danni fisici che subisci E si procede Sì Sono bloccato anche io Ma che ti è successo? Eh ma ha preso la palla Ma come? Ma ma ci siamo in giudà Clippate questa cosa per l'amore del signore Allora facciamo la cosa Tac Saltata la leva Sono partiti comunque i colpi? Sì Allora hai avuto una bellissima idea che per qualche motivo non funziona Schiacci comunque le hitbox mentre sei in salto No Sono vivo Correre 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 Ma perché sono morto? È impossibile da caduta da stantezza dai Beh con quegli HP sì Correre subito Dai No Quasi è stato molto sfortunato Allora credo che appena passa la palla Dobbiamo seguirla Seguirla? Interessante scelta Però sei scemo Vabbè sono scemo Questo è un altro discorso Però sei scemo? L'aspetto guardando avanti Facciamo Seguiamola Dai corri Ok Credo di essere salvo Sì Sono salvo C'è una Cesta Tu chiaramente lo fai guardando Senza guardarti Ovvio Sei Madonna Che stronzo Lancia del pulmine Sei Dicevi Sei la persona più fortunata del pianeta E il mimic l'ha confermata Perché? Adesso vediamo se hai spirito di osservazione L'anima della vista? In questa stanza c'è qualcosa oltre il L'ascensore C'è un No 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 Parlavo dell'ascensore Ah ok Vediamo se hai spirito di osservazione Ok Allora Diciamo che questa cosa era invisibile Possiamo dirlo C'è del sangue C'è del sangue sull'ascensore Ti fa capire che se ci stai troppo ti ammazza Dai ma è ovunque il sangue in sto gioco Come faccia a capirlo? Sì ma lì ce n'è di più Come on Lì sopra c'è un oggetto Come cazzo ci arrivo di sopra? L'ho visto quell'oggetto là eh? Aspetta 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 Io ho l'anima della scoperta Ok Ok Qua ci siamo Anello d'oro del serpente Cosa cazzo ridi? Credevo di avercelo fatta Sei un bastardo Clippate la mia faccia Quando capisco Cosa sta per succedere Adesso Se vuoi Metti il mio schermo E ti faccio vedere Qual è la strada più rapida Per arrivare Fin dove vuoi arrivare tu Si aspetta qua Eh Dall'inizio della palla Ah sì ok Vero Si aspetta che la palla passi Qua ho perso il tempo Appena tocca Si parte a scatto Si sta tutto a sinistra Tutto a sinistra Tutto a sinistra Tutto a sinistra Si taglia qua E si rolla Ed è proprio lì Che io devo arrivare adesso Cioè io sono in sotto Cazzo se è più veloce Zerg Che speedrun Ragazzi l'ho fatta Il roll L'ho fatto Frame perfect Di solito Di solito quel roll Si fa per prendere Un solo tick di danno Se lo fai Frame perfect Non prendi danno Cioè io ora adesso Sono qua Spingo la leva In modo da Da far cadere la palla Nel vuoto È questo Che devo fare Bravi Si si No vabbè E ora spingi di là Perf No Oddio i creatori Oddio Oddio Che bravi Oddio che bravi E adesso Si può fare Della prosecuzione Per di qua No Che cazzo è andato Di qua Eh vedi Dove mi hanno appena sparato le frecce Ah si È proprio quello Di qua Sì immagini Quante volte ci muoio qua Aspetta Un altro Madonna quanti sono Qua ho l'impressione Che io debba passare Così Call me master Please Un altro serpentone Che ci lascia le penne Vai Bello che lui ci da Un R1 Io devo fare Due perri E va bene E adesso No No Ma è stronzo Adesso ti uccido Eh no Non posso È fatto apposta Lui li rompe Parecchi i coglioni Sono d'accordo Se ho capito bene Dai rock No 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 Allora adesso Madonna Ma se lui mi becca Con questo mi spinge È abbastanza da farti cadere Volevo vedere se Avevo magari Un coltello da lancio A me non ti basta No no voglio fare altro io Adesso vedrai Mio caro piccolo amico Vuoi farlo cadere Call me master Please Call me master Per favore Vuoi spingerlo a quadré Per favore Chiamatemi maestro Qua molto Qua estremamente Qua estremamente tattico E adesso è una camminata Adesso devi soltanto Non cadere di sotto E ci siamo Benissimo Ero in fatrol Oddio Anche questo è stato cool E posso entrare nella nebbia E puoi entrare nella nebbia Se c'è un boss Bisistava il gioco No 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 Ah ok Era cattiva E metterlo qua Mi sarei fermato prima Entra pure Ok c'è un gigante Anzi corro velocemente Che mi vuol tirare una palla Aspetta Vedrai Questa te la dico Perché questo fallo Effettivamente È bastardo E basta Qua a destra C'è un buco nel muro E ti ci puoi buttare dentro Merda 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 Oh Oh Oddio Che soddisfazione Adesso potrei averti evocato Ma morire subito Dai forse qua Sembra più facile schivare No in realtà qua Non schivi praticamente più niente Perché Adesso ti farò vedere Una piccola chicca Che molti beccano comunque Quindi non è un problema Qua ci sono delle scale Giro giro Non ci credo Ma di che stiamo parlando Dai È un cazzo di capolavoro Sto gioco Sì o no Ma di che cazzo Merda Odì Che cazzo di male Adesso devo stare attento Anch'io Perché non sono invincibile Splendida visuale davanti È vero Oh vai Lo stocco Lo stocco di Rika Una delle mie armi preferite in assoluto Ci ho fatto un'intera build pvp su Dark Souls 3 Sullo stocco di Rika Io ho finito le benedizioni divina Ho finito le cure Leggila perché è molto importante la benedizione divina Acqua santa della dea Guinevere La dea del sole Guinevere Figlia del grande lord delle anime Guine Ok È amata da tutti È considerata il simbolo di abbondanza e fertilità Non aveva sentito Che aveva appunto un figlio Guine O due figli Guine aveva un figlio Aveva sicuramente un figlio Il dio della guerra che poi È stato esiliato e bandito dagli annali per un qualcosa Che ha fatto qualcosa Che non sai che cos'è Per ora E aveva evidentemente anche una figlia Dea del sole, della natura e dell'abbondanza Simbolo di fertilità Guinevere No, Cristo santo Che succede? Lo spirito Eh, non ho letto Sir Solution 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 È un player No Non è un NPC È un player E come ho fatto a entrare? C'è invasi Ho capito E può? Sì Ma come? Non siamo con la simbless Sai cosa? Adesso falli vedere che è forte Falli vedere come si gioca Dai Sicilissimo Parliare Sta spada È rotta Non ti fai un male caino comunque Ma beve pure Cioè E i nave le beve Rompilo Eh, non è facile Ma perché è venuto a rompere il cazzo sto qua? Eh, perché la community Dark Souls non ha mai smesso di rompere il dolore Un per poco amico Ok, quindi adesso perdi qua Ma Zerg? Sì, ho sbagliato strada Tu vai pure Io solo ho sbagliato strada Non ti preoccupare Ma quel gigante lì Con un lascia fermo in piedi Ah, l'hai visto? Qua, Ayok, secondo me Nel prima del ponte C'è una bella foschia bianca Eh, vabbè Non l'avevo vista, eh Giuro che non l'avevo vista Qua Non so se lo vedi perché Sì, lo vedo C'è il simbolo di Tarkas Ferro nero Sì Segnatelo perché è molto simpatico Tarkas Vediamo se sono in grado di buttarlo Golem di ferro Eh L'iron golem Cosa fa? No Molto più bello, eh È più bello il Tower Knight No, dai, questo è più bello visivamente Eh, come Non è che li devo girare attorno? Eh sì E cadi, stronto Sì, vabbè Vodi i danni No, mica da dosso Sì Zerg Ma che danni facciamo? Che danni fai? Io faccio quelli giusti E tu che stai facendo I fantadani Eh, ciao golem Dai Sono Elden Lord Non so se te lo ricordi Ho sconfitto Malemia Esamina anello di luce? No No No, giusto Giusto Dai, fermo Esci dall'arena Uy Me l'ho schivato sto colpo Con una piruetta No, davvero Eh, vabbè preso invece Tra l'altro mi son buscato È rarissimo questo attacco Sì, mai visto Prima non l'ha fatto Cadi all'indietro Cade di sotto Grazie Così hai visto anche la sua animazione No, è caduto anche di sotto Così hai visto anche la sua animazione rara di morte quando cade Non ci credo E adesso Non credevo Caro E adesso, caro Rocco Goditi Il primo momento Wow Forse Cioè Che ha fatto storia Poi da questo gioco in poi Tutti i giochi hanno provato a replicare questa sensazione Onestamente Non riuscendoci Esamina l'anello di luce Esamina l'anello di luce Aumento il volume di gioco, eh? Sì Sì, sì Al massimo Forse si sentirà più di noi Pronti Pace Tanto noi staremo in religioso silenzio Silenzio Voliamo verso l'alto E' questo E' questo Serve un'altra Ma danno il mondo E' questo Madonna E a me dà ancora i primi di arrivare qua dopo dieci anni Ma scusa Ho le lacrime No, vabbè E' un quadro E' un quadro Quella creazione gigante che vedi lì davanti È esattamente il duomo di Milano Addirittura lo stesso rosone centrale Ma questo rimane col sole dietro Ma sai che è bello? Che anche vedendo una cosa così col sole dietro, tutto bello Riesce a darti una sensazione di solitudine E' come oscurità Bravissima E' come l'Hander Bravissima Anche l'Hander è così E questa è la magia dei giochi Perché riesci a vedere oltre la facciata Vedi il fatto che è comunque deserta, è in rovina Sì, sì, sì È triste È bellissima Ma è triste Questo è un quadro Che poi dietro c'è il fascio di luce Ci sono le foreste in verde È incredibile È onestamente incredibile Ma l'hai shottato il guardiano di Milano No, non mi ha proprio cagato Io non ho cagato lui Non mi ha cagato Io ho fatto lo stesso Oh, mi faccio anche qualche livello A voce del verbo qualche Vado al 26 Mi faccio 5 livelli di vitalità Sì, sì, sì È un signorino qua Tanto dovresti essere umano Sì, sì Una signorina per la precisione La guardiana del fuoco Lei è un pochino più armata Parlaci pure se vuoi Sei un ospite raro Benvenuto nella città perduta di Anor Londo Se cerchi il maniero di Lord Gwynn Esci di qui e prosegui dritto Se sei il prescelto Riceverai una rivelazione Ciò che seguirà Dipenderà da te Potenzia Pia Schetta Estus Assolutamente Esattamente Qua non posso mettere il segno Devi andare dritto e scendere Poi lo potrai trovare giù La prossima ti avviso Che è un'altra area In cui normalmente la gente invade a nastro Qua c'è forse una degli scontri Barra incontri più iconici Di From Proprio come casa Come soft browse Non sto esagerando Diciamo che questa cosa di cui ti sto dicendo È stata Malenia prima di Malenia Non in termini di così estrema difficoltà ovviamente Malenia è su un altro livello rispetto a tutto quello mai fatto nella storia dei videogiochi Escluso Omega Weapon in Final Fantasy VIII Mi stanno dicendo Di Undertale Che ci sarà un boss di Undertale Ritenuto il più forte Hai iniziato Undertale? No Lo voglio iniziare a breve Guarda Ti faccio uno spoiler Out of context Su So di cosa parlano Quando sentirai Dovrai cagarti sotto Quando sentirai questo Oh canzone famosissima Quando senti Se È difficile che tu la senta Se e quando sentirai questa canzone Tu inizi a cagarti addosso E adesso E adesso Una delle cose più belle Se si è veterani Che esista Nella storia delle blind run Trova il modo di andare avanti da qua Allora io ho trovato questo no? Cioè qua ci sono delle Scale Scale Sì sì Chi so Che portano Anche qua di sotto Ok Dobbiamo arrivare Mi sembra ovvio Dall'altra parte Del ponte Come? Beh Quanto ci ho un po' portato Sì Ma perché non era la prosecuzione Titanite Mi ricordo di Prima di Rennala Hai presente il Il ponte In cui c'era Bravissimo 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 Eh avendo giocato Alder Ring Questa Questa te la ricordi La cosa divertente È che questo Che sembra un out of bounds È l'unico Modo per proseguire Non ce n'è altri Scusa Ah è da qua dentro Ho sbagliato Ho sbagliato Zerga Dove sei? Vengo a metterti il segno lì dal cornicione Ho sbagliato il roll E qua c'è proprio la finestra rotta per entrare La cosa più divertente È che lo scoprirai Ma scoprirai anche chi ha rotto quella finestra Stai per fare La cosa che io reputti La seconda cosa più difficile di tutto il gioco Ho capito È abbastanza ovvio quello che dobbiamo fare Aspettami però perché lì non so se posso metterti il segno Ci sarebbe una cosa anche da fare Ossia cadere sul candelabro Per prendere quell'oggettino lì eh Non si può cadere sul candelabro Così ti evito problemi O va rotta la catena e hai fatto cadere Bravissimo Fun fact Le armi di questi guardiani del dipinto È l'arma con il rapporto energia utilizzata Danno fatto più alto del gioco Ma se noi gli rendessimo il favore E gli sparassi con la balestra In modo da fargli cadere di sotto Se hai questo tipo di mira Sei un fenomeno Non sono mai passato di lì mi credi Ah sì? Ah Per scaramanzia passo sempre Per scaramanzia passo sempre da destra Oh Eh Come cazzo Prego Non faccio Faccio a non morire adesso Gran pezzo di cane Si è anche riuscito a colpire il lampadario Hai colpito uno in testa che c'era sotto Clamoso Allora Adesso Facciamo secco quell'altro Non vorrei assolutamente cadere No Ma vaffanculo Eh peccato Ma sai che ti dico Io non vi cago nemmeno Ok Questa Non credo sia un boss Immagino sia un'altra zona Nuova zona Semplicemente E adesso Guarda cosa riesci a fare Con quella rotellona gigante Non è che giro tutta la struttura Forse quello Che prima mi bloccava Cioè dove stavo per cadere Sì E adesso Goditi Questa gazzia Ma com'è fatto Oh Dai su Vai via Gregorio E di qua C'è la prima Cosa più difficile Della storia di Sarrus Prosegui andritto Che dici Donne E' arrivato L'arrotino L'arrotino E' l'ombrellaio Ma Ma soprattutto L'ombrellaio Ecco Inteso Che lancia ombrelloni Perché? E' uno spoiler Autocon Tranquillo No no Ah ok Il lancia ombrelloni Dove stai andando? Qua ci sei stato Dì un po' Se ti puoi Ci vede là Ah Bravissimo Ok L'importante E' saperlo Madonna Che dà Madonna Chi sono quei cani? Donne E' arrivato L'arrotino L'arrotino E' l'ombrellaio Oh no Aspetta Mi fa intendere Che dobbiamo Prendere questa qua Centrale Il gioco Il gioco Ti fa intendere Non avendone Messe altre Eeeh Come c'è Arrivare lì? Proviamo Dai Facciamo Una bella Rollata Super Dico Madonna Quante volte Cadremo Ma quelle Possono essere Frecce Quelle sono Ombrelloni Vai Zerg Eh M'ha preso Vai Ci vediamo In cima M'ha preso Anche me Merda No Donna Zerg Oh ma S Come si sente A cadere Di sotto Cere Madonna 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 Ho fatto Ho fatto Cadere L'arciere E io E io Son caduto Invece No Vabbè Che schifezza Mi dobbiamo Mi dobbiamo Parcare Puoi morire Grazie a dio Adesso Ci sono Zerg Ce l'ho fatta Qua c'è la La nebbia La nebbia Una volta che ci entrerai Prima porta a sinistra E c'è un studio Oh No Solaire Il buon Solaire Ma no Ma cosa mi stai dicendo Gran Solaire Il dessert Che io vorrei Per citare Gli otto Oh Qui ti è Stai quieto Stai quieto Stai quieto Stai quieto Stai quieto Stai quieto Qualcora Vedi la mia Signatura brillante Che simpatica C'è anche Un bel falò Che è la fine Della nostra live Stasera Stasera Spero che ti sia piaciuta Madonna che live Ragazzi Anor Londo E' una E' un Capolavoro E' una meraviglia Per gli occhi Sono d'accordo E allora La prossima live La chiamerai Gianni e Pinotto Come i codici Gianni e Pinotto Pinotto Vabbè Bene Ci lasciamo qui Grazie per averci seguito Andate a seguire il caro body E Noi ci vediamo Alla prossima Ciao